Musica Rieccoci nuovamente assieme gentili telespedatori di Teleantenna, il telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito andiamo a San Michele a Tagliamento, parliamo di un furto, l'ennesimo in questo caso in un ambulatorio medico con San Giorgio a Tagliamento, appunto questo studio dentistico che è stato letteralmente depredato di tutto ciò che c'era all'interno, intanto i colleghi del medico lo hanno aiutato a riaprire, ma sentiamo il servizio di apertura del telegiornale. I ladri svuotano lo studio dentistico ma non fermano il medico che si mette subito all'opera per riaprire grazie alla solidarietà dei colleghi. Brutta scoperta a San Michele a Tagliamento l'altra mattina quando il dottor Riccardo Silvestri è arrivato in ambulatorio per mettersi al lavoro. Approfittando della notte da lupi con tuoni e fulmini, i malviventi hanno sfondato una finestra dello studio dentistico di via 24 Maggio nella popolosa frazione di San Giorgio a Tagliamento. Il medico all'apertura non credeva ai suoi occhi quando ha constatato il furto delle attrezzature elettromedicali, computer e tutto quello che si poteva facilmente asportare. Si sono presi anche una piccola statuetta di rame che raffigurava San Giorgio e il Drago che rappresenta la nostra comunità cristiana, ha spiegato Silvestri. Oltre a una piccola scorta di campioni di dentifrici e spazzolini che omaggiavo ai pazienti. Un colpo che supera i 10.000 euro. E comunque mia intenzione è riaprire immediatamente l'attività professionale che ormai da 32 anni mi vede presente nel territorio, ha spiegato Dentista. Ringrazio i pazienti per la solidarietà e l'affetto dimostrati. Ringrazio anche i colleghi e i fornitori che si sono prodigati in un'azione collettiva per permettermi di ricominciare a lavorare fin da subito. Già da diversi anni gli studi dentistici sono presi di mira da una serie di furti, aventi come obiettivo la ricerca di metallo prezioso, attrezzature elettromedicali contenente rame, pinze e utensili chirurgici e computer portatili. Sul caso indagano ora i carabinieri giunti nell'ambulatorio per i rilievi. Rimaniamo a San Michele al Tagliamento, da dove era sparito un uomo da una decina di giorni. Ebbene lo avevano cercato anche tra le acque del Tagliamento, si era mobilitata anche la prefettura proprio per diramare le ricerche e attivare quindi tutto ciò che era possibile fare per trovare quest'uomo, che invece si era perso nei campi dopo una decina di giorni e tornato a casa. Lo cercavano ovunque da dieci giorni ma si era perso tra i campi. Almeno questa è la versione che Viorel Bancintenchi ha raccontato ai carabinieri e alla sorella che lo ospita a San Michele al Tagliamento. Il 39enne Moldavo, che non dava più notizie di sé dal 4 ottobre scorso, è ritornato a San Giorgio al Tagliamento mercoledì sera. Visibilmente provato è stato rifocillato dalla sorella. Si sta riprendendo, ha raccontato la donna. Fortunatamente non è accaduto a nulla di irrimediabile. È naturalmente provato. Mi ha riferito di essersi perso ed aver vissuto tra i campi, nutrendosi di ciò che trovava. Dieci giorni e notti, con la pioggia che in questi giorni non è mancata, hanno evidentemente segnato il 39enne che risiede annuale e che non ha chiesto alcun soccorso al 118. L'uomo aveva passato la sera del 3 ottobre con un connazionale in un locale di Latisana. Poi di lui non si sape più nulla. La prefettura aveva avviato l'iter per le persone scomparse, con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, con i sommozzatori e la protezione civile che per giorni lo hanno cercato ovunque, anche tra le acque del tagliamento. Bacitenchi, a quanto pare, si era perso tra i campi. C'era un'altra persona scomparsa, in questo caso a Meduna di Rivenza, una persona disabile, che era sparita da una casa di accoglienza. Ebbene, lo hanno trovato a Napoli. Era scomparso da dieci giorni e è stato trovato a Napoli in buone condizioni di salute, sano e salvo. Si conclude così la fuga, o comunque l'uscita non programmata, di Biagio Limongi, il 57enne, ospite di una cooperativa sociale che assiste a una decina di persone diversamente abili in Via Verdi a Meduna di Rivenza. Limongi vive da anni a Meduna ed è seguito nella sua attività dagli addetti e conosciuto da tutto il paese e spesso lo si vede girare in centro. Il 57enne aveva lasciato la sua abitazione il 5 ottobre e nessuno aveva avuto più notizie di lui. Lunedì, dopo l'allarme scattato, immediatamente si è occupata del caso anche la trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3, che tra l'altro ha pubblicato sul proprio sito web i dati dell'uomo. Non è la prima volta che Limongi se ne sia andato senza dare notizie per qualche giorno. In passato era accaduto che l'uomo prendesse l'autobus che passa a Meduna e poi sparisse. E così la notizia del ritrovamento è finalmente arrivata. Lo hanno riconosciuto proprio a Napoli, dove era arrivato, evidentemente, con dei mezzi pubblici. Come da prassi lo hanno portato in ospedale per verificare le sue condizioni fisiche. Il viaggio è stato ritrovato poche ore fa, ha confermato il sindaco Manica Fantuzze. Da quello che sappiamo si trova a Napoli ed è in buone condizioni. Al momento è ricoverato in ospedale, ma si tratta di una semplice prassi. A breve, dunque, potrà fare il ritorno a casa proprio a Meduna. Cambiamo pagina, andiamo a Porto Gruaro, dove Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, chiede maggiore attenzione per la hospice alla casa, Pio Francescon di Porto Gruaro. Quando un servizio funziona, chi ha le chiavi del potere decide di chiuderlo. Si tratta dell'ennesima scelta scelerata, incomprensibile e che, se non verrà almeno parzialmente rivista, rischia di mettere in ginocchio ancora una volta il settore sociale, ovvero le fasce più deboli che periodicamente, quasi ad orologeria, viene colpito dai tagli. A sostenerlo è Riccardo Rodriguez, di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale a Porto Gruaro, che si riferisce a quanto sta accadendo al reparto hospice di Porto Gruaro, riservato inizialmente con dieci posti letto per malati terminali all'interno della residenza per anziani Francescon della cittadina dell'Emmene. Attualmente, questo importantissimo reparto, ridotto ormai ai minimi termini per chiare scelte politiche, sta mettendo in difficoltà in primis tutte quelle famiglie che si trovano con un malato terminale in casa o in ospedale, ribadisce Rodriguez. Questi malati non sono oggetti da buttare, ma hanno diritto ad un trapasso dignitoso, cosa che sembra non interessare sufficientemente ai vertici della azienda sanitaria. La scelta assolutamente superficiale e priva di un'attenta valutazione sull'eventuale e definitiva chiusura dell'hospice creerà disagi non indifferenti alle famiglie, che già sopportano il peso del dolore per il familiare con una patologia di tipo terminale. L'auspicio dei Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che è il nuovo direttore della residenza Francescon, già nei primi atti dopo il suo insediamento nei prossimi giorni, richieda un tavolo urgente con la direzione generale, il sindaco, senatore e il consigliere regionale del territorio Barbisan per scongiurare la chiusura dell'hospice e che si arrivi ad una mediazione che consenta almeno il mantenimento della metà dei posti letto inizialmente previsti nella convenzione in essere. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, farà la sua parte, ribadisce Rodriguez, facendo cordata con tutte le famiglie, forze politiche e associazioni territoriali che hanno a cuore il mantenimento di un servizio strategico e umanamente imprescindibile. Ora invece a Fossalta di Porto Gruaro, o meglio ad Alvisopoli, dove arriva l'evento dell'Asvo, c'era una volta un bosco. Sentite. Domenica, in occasione della manifestazione C'era una volta un bosco, gli inviati speciali di Asvo, Augusto Drago Giusto e Capitan Eco, saranno protagonisti nel piazzale antistante, la villa Mocenigo di Alvisopoli, di Fossalta di Porto Gruaro, dalle 14.30 alle 16.30, di numerose attività di animazione ambientale, con giochi di gruppo, canti e attività ludiche, per imparare a rispettare, apprezzare e conservare insieme il nostro ambiente di vita quotidiano, e nello specifico il bosco di Alvisopoli, una vera perla di habitat naturale, con canali interni alimentati da acque di sorgive, specie pregiate di piante ad alto fusto, arbusti, mammiferi, uccelli e numerose specie di pesci. Augusto Drago Giusto e Capitan Eco, inseparabili amici per l'ambiente, coinvolgeranno i ragazzi con entusiasmanti attività e giochi di gruppo, quali il gioco dell'oca, canti e molti altri, sui comportamenti poi virtuosi da tenere nei confronti dei rifiuti. Separazione e corretto conferimento, abbandono per terra su spazi pubblici, ma anche in aree naturalistiche protette, quali il bosco di Alvisopoli. Sarà dunque un pomeriggio decisamente divertente e frizzante, in cui i ragazzi impareranno, giocando, a conoscere e a rispettare l'ambiente di vita quotidiano. Sono invitati tutti i ragazzi, l'ingresso è gratis e il divertimento è garantito. Adesso parliamo di sport, ma lo facciamo con il nostro Andrea Ruzza, che vedo collegato dalla redazione sportiva. A te Andrea. Grazie Marco, appuntamento sportivo odierno che dedichiamo alla regina di tutti gli sport, all'atletica, che nello scorso fine settimana ha visto due ragazzi di casa nostra aggiudicarsi medaglie pesanti ai campionati cadetti che ci sono disputati a Sulmona. E allora spazio alle imprese di Francesco Ruzza, quindi Cenedi Caorle, neocampione italiano di salto in alto con 2,05 metri e a quella di Federica Botter, salita sul secondo gradino del podio nel Giabellotto. Vediamo i servizi. È stato un sogno che si è realizzato, ho visto tutta la fatica ripagata, anche tutta l'ansia, la tensione prima della gara, una volta arrivati a 2,05 è svanita ed è diventata solo gioia. 2,08 l'ho pevato ma era un po' scarico, non ci credeva abbastanza, magari ce l'avevi avuto però è andata così, adesso c'è ancora un'occasione per tentarlo prima di chiudere la stagione, speriamo vada bene. Raccontaci un po' la tua carriera fino a questo momento. Ho iniziato l'atletica tre anni e mezzo fa, ho iniziato facendo tutto, soprattutto lungo, un po' di lancio del peso, poi un giorno mi ricordo in aprile di due anni fa ero solo ad allenamento con Galdino, abbiamo provato il salto in alto, abbiamo visto che me la cavava abbastanza bene e da lì abbiamo iniziato un percorso che alla fine dell'anno mi ha portato a saltare 1,74 da ragazzo, Andetta Irici, che era la misura capolista nazionale e quindi ho capito che al momento quella è la mia strada diciamo. L'anno prossimo ci sarà la prima edizione degli europei allievi, la speranza è quella di poterci andare e magari anche di far bene, quindi intanto la convocazione e poi il risultato. Speravo molto comunque ad arrivare anche nel podio, la medaglia d'oro comunque era molto impossibile perché la prima ha un primato anche mondiale, quindi un secondo posto va molto bene e comunque ho fatto anche il mio personale e si spera che migliori ancora, essendo anche il primo anno di categoria e ancora il prossimo anno per puntare al primo posto e comunque allungare la distanza del Giavellotto. Ecco, Gareggi parla Friuli in Tagli di Brugnera, però c'è una particolarità che ti riguarda visto che negli scorsi anni hai praticato un doppio sport, giocavi anche a pallavolo. Sì, sì, giocavo a Jesolo, ho fatto due campionati, l'Under-14 e la seconda divisione, con l'Under-14 si buttava abbastanza in alto e infatti siamo arrivati alle nazionali. L'anno scorso mi dedicavo molto all'atletica, dato che mi dedicavo molto più tempo alla pallavolo. Quest'anno ho fatto questa scelta di dedicarmi molto di più all'atletica e magari meno alla pallavolo. E i risultati si sono visti? Sì, sì, molto. Non sei l'unica che arriva dalla pallavolo, che riesce ad avere buoni risultati nel Giavellotto. C'è una particolarità che lega questi due sport? Sicuramente la spalla, il braccio. Molte ragazze provengono dalla pallavolo, anche la terza che è arrivata sul Mona mi ha detto che praticava pallavolo. Sicuramente sarà la spalla, il braccio. Quindi non sei nuova a un certo tipo di risultati, visto che è la terza volta che partecipi ai campionati italiani con la rappresentativa? Sì, più che i campionati italiani erano delle rappresentative per regioni. Siamo stati a Fidenza, nell'Emilia Romagna. Lì, agli ultimi lanci ero seconda, sempre dopo Carolina Visca, che è la prima. Agli ultimi due lanci mi hanno superato altre due ragazze, sempre quelle con cui sono più in competizione. Quindi sono arrivata a quarta. Mentre a maggio siamo stati a Dancona a fare gli indoor, lì però ho fatto il lancio del peso. Sì, non è andata granché, dato che poi comunque non era la mia disciplina. Però è una bella esperienza comunque. Tu studi a Lignano mi sembra? Sì, al turistico, all'indirizzo sportivo. E ti alleni anche a Lignano? Sì, sì. Dopo scuola, dato che il mio allenatore è anche il mio professore di educazione fisica, ci fermiamo allo stadio a Lignano. La medaglia d'argento nei cadetti, che obiettivi hai per il futuro? Il mio sogno sarebbe comunque scrivermi alle forze, come i carabinieri, le fiamme, per poi fare quello che mi piace ed essere pure pagata. Ovviamente in un futuro. Per le prossime categorie, magari allievi o cadetti, puntare sempre ad allungare la distanza e vincere molto. Grazie ancora Andrea. Vinicio Scortegagna ci propone uno scatto dal territorio per Foto Reporter. Si ferma qui la telegiornale del Veneto orientale. Non mi resta che augurarvi una buona serata. Vi ricordo l'appuntamento delle 14.30, quello delle 18.15 e poi quello delle 19.40, 23.40 e l'1.45 della notte. Grazie ancora, buon proseguimento con i programmi di Teleantenna e a risentirci. Grazie a tutti.